E' morto all'età di 90 anni la grande attore scozzese Sean Connery. La notizia è stata resa pubblica dalla famiglia attraverso la televisione di Stato britannica. Connery era diventato celebre per le sue interpretazioni di 007, l'agente segreto creato da Jan Fleming. Per tutta la sua lunga carriera Connery ha ricevuto premi e riconoscimenti, tra cui un Oscar, due BAFTA e tre Golden Globes. Grazie a tutti.